Buongiorno perline! Allora, in questo nuovo video vorrei farvi il tutorial di questo modulino qui. Dopo tanto fare e disfare, alla fine è uscito fuori qualcosa. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Eccolo qua. Penso che sia molto elegante come ricchino e poi sbirluccica anche se non si vede molto bene dal video magari. Anche i colori sono abbastanza sfalsati. Allora, per poter realizzare questo modulino abbiamo bisogno di cipollotti 6x4, bicono da 4 mm, cipollotti 3x4, rocai 11 e rocai 15, una goccina e monachella. Naturalmente ago e filo. Io come al solito utilizzo il filo di nylon e l'ago della pony. Allora, come primo passaggio dobbiamo inserire sul lago 3 rocai 11,0 3 rocai 11,0 Dopodiché aggiungiamo la stessa sequenza. Quindi, altre 3 rocai 11,0 Un cipollotto Una rocai Un cipollotto Una rocai Un cipollotto Una rocai E un cipollotto Allora, la sequenza finale sarà questa. Chiudiamo a cerchio, facciamo il solito nodino e ci vediamo dopo. Allora, una volta chiuso a cerchio e fatto il nodino usciamo da un cipollotto. Allora, inseriamo sul lago una rocai 11, un bicono, una rocai 11,1 bicono e una rocai 11. E rientriamo all'interno del cipollotto. Passiamo anche all'interno della rocai e del cipollotto successivo. E ci ritroveremo così. A questo punto aggiungiamo sul lago una rocai 11,0 Un cipollotto Una rocai 11,0 Scusate, un bicono. Ecco qua. Questa è la sequenza che dobbiamo aggiungere sul lago. Dopodiché rientriamo all'interno della 11,0 Quindi utilizziamo questa 11,0 Rientriamo E dalla 11,0 Rientriamo nel cipollotto Questo passaggio lo facciamo anche per questo cipollotto E per questo Una volta aggiunti il bicono usciamo dalla 11,0 Della tripletta Ecco qua Usciti da questa 11,0 Vediamo se metti a fuoco Aggiungiamo tre rocai 11,0 Saltando La rocai centrale Entriamo nella rocai successiva Ed entriamo anche nel cipollotto successivo A questo punto dobbiamo fare gli stessi passaggi precedenti Quindi quello che abbiamo fatto qui Lo facciamo anche da questa parte Arrivati dall'altra parte del lavoro Anche qui dovremmo uscire dalla rocai 11,0 Quella della prima della tripletta Aggiungere tre rocai 11,0 E rientrare Nella rocai Nella terza rocai della tripletta Ok Tiriamo bene il filo Dobbiamo fare in modo che La tripletta si Sistemi in questa maniera Dopodiché passiamo tra le perline Ne usciamo dalla rocai Sopra il bicono La prima rocai Allora A questo punto Aggiungiamo Allora vediamo se mi ricordo i passaggi Una rocai 11,0 Un cipollotto 3,4 Una rocai 11,0 E rientriamo Nella rocai 11,0 Successiva Così E lo facciamo anche qui E qui Una volta aggiunti i cipollotti Usciamo dall'ultimo bicono Aggiungiamo sul lago Una rocai 11,0 Un cipollotto Una rocai 11,0 Un cipollotto E una rocai 11,0 E rientriamo Nel primo bicono Dall'altra parte A questo punto Usciamo dalla 11 E facciamo lo stesso lavoro Che abbiamo fatto da questa parte Arrivando qui Poi Arrivando qui Facciamo Aggiungiamo la stessa sequenza Che abbiamo aggiunto qui Allora una volta aggiunti tutti i cipollotti Dobbiamo uscire dalla rocai 11,0 Che si trova subito dopo il primo cipollotto Adesso distruggo tutto qui Qui Aggiungiamo Tre rocai 15,0 E ci inseriamo Nella rocai 11,0 Prima del secondo cipollotto Quindi In pratica dobbiamo saltare La rocai della base Usciamo Dalla rocai Subito dopo L'altro cipollotto Aggiungiamo Tre rocai 15,0 E ci inseriamo Nella rocai 11,0 Prima dell'altro cipollotto Ok Dopodiché Usciamo Dalla rocai 11,0 Che si trova Prima Del bicono Aggiungiamo Quattro rocai 11,0 E ci inseriamo Scusate Vediamo Che non mi ricordo 1,2,3,4 Ci inseriamo Nella rocai Prima del cipollotto Ecco qua Usciamo Dal cipollotto Aggiungiamo 3 rocai 11,0 E ci inseriamo Nel cipollotto successivo Ecco qui Allora Adesso dall'altra parte Dovremmo fare Esattamente Gli stessi passaggi Qui E qui Stessi passaggi Ora una volta Fatti tutti i passaggi Dobbiamo trovarci Ad uscire Dalla seconda Rocai Quindi dalla Rocai 15,0 Di punta Della tripletta Che abbiamo appena Inserito Quindi da Questa qui Dobbiamo Aggiungere Sul lago 5 rocai 15,0 2,3,4 E 5 E inserirci Nella rocai 11,0 Della base Vi faccio vedere Subito Qui Perché dovremmo Andare a fare In pratica Questa decorazione Qui Questa qui Questa sorta Di V Quindi dobbiamo Entrare All'interno Di questa Rocai 11,0 Ecco qui Dovete tirare Sempre molto bene Il filo Altre rocai 15,0 1,2,3 4,5 Ed entrare Nella rocai 15,0 Centrale Dell'altro Archetto Che abbiamo Costituito Prima Ce la posso Fare Ecco 1,2,3 4,5 5 Ecco qui Tirate molto bene A questo punto Cosa c'è da fare Dobbiamo uscire Da questa rocai 11,0 Quindi quella Prima del cipollotto Quindi attraversiamo Le perline Con calma Perché se no Rischiamo di Tagliare il filo Con tutti questi cipollotti E questi Biconi Quindi da dove usciamo Quindi da dove usciamo Scusate Dovete uscire Dall'ultima Delle 4 Sopra il bicono Esattamente questo Aggiungiamo 4 rocai 15 1,2,3,4 E ci inseriamo Nella rocai di punta Che si trova sotto E tiriamo il filo Bene Di nuovo 4 rocai 15,0 E ci inseriamo Nella prima Delle 4 Sopra il bicono Che abbiamo aggiunto Prima Ecco qua E si fa Si crea Questa sorta Di decorazione Adesso facciamo La stessa cosa Qui E qui Allora Ultimo passaggio Da fare Quello di aggiungere La goccia Praticamente Aggiungiamo Allora Vediamo un po' Aggiungiamo Sul lago Fuoco Tre rocai 11,0 La goccina Una rocai 11,0 E rientriamo All'interno Della goccia E delle due rocai Prendiamo un altro rocai E ci inseriamo Nella rocai Di punta Ecco qua Ce la posso fare Perché ho sbagliato E niente Era entrata Dalla parte Sbagliata Quindi entriamo All'interno Della rocai Di punta Io Io non stringo Troppo Altrimenti La goccina Poi non All'interno All'interno